Segretario, com'è andato questo primo incontro? Diciamo che abbiamo iniziato la discussione, una discussione che abbiamo approntato per quanto riguarda le certezze del piano industriale e anche sui tempi degli investimenti, perché pensiamo che prima di affrontare tutta la parte che riguarda il personale sia importante capire un prescritto, abbiamo chiesto che venga messo prescritto il piano industriale e i tempi degli investimenti. È ripresa questa mattina alla Lucchini la trattativa tra Cevital e i sindacati. In ballo ci sono 2200 posti di lavoro, la nuova proprietà vorrebbe riassorbirne soltanto 1860. Siamo fiduciosi che possiamo comunque fare un accordo che preveda l'assunzione di tutte le persone sapendo che ci saranno comunque periodi difficili legati alla solidarietà e alla casa integrazione ma è chiaro che l'obiettivo di avere tutti occupati nei due anni è un obiettivo importante e pensiamo di raggiungere. Una trattativa insomma né breve né facile dal momento che l'azienda chiede ai lavoratori anche la disponibilità a trasferirsi in altre attività del gruppo quali l'agroindustriale o la logistica portuale elemento di per sé poco rassicurante vista la vasta obbligazione geografica dei tanti siti industriali Cevital. Il progetto Cevital farà di Piombino uno dei centri industriali più importanti d'Italia e la disponibilità che hanno dato fin dal primo giorno a discutere ci fanno essere fiducioso che alla fine riusciremo a fare un accordo che soddisferà entrambe le parti.